Buonasera amici di Incontriamo Gesù, benvenuti a questa nuova puntata, due domande che ci fanno spesso. Perché vi definite evangelici? Perché annunciamo un messaggio, l'Evangelo, la buona notizia, che possiamo essere salvati attraverso Gesù Cristo. In cosa vi differenziate dai cattolici? Il nostro credo è basato sui cinque punti della riforma protestante. Sola scrittura La Bibbia è la parola di Dio, attraverso di essa Dio ha rivelato la sua volontà per tutti gli uomini. Essa è quindi autorevole, inerrante e sufficiente a condurre chiunque alla conoscenza della via di salvezza dal peccato, attraverso la persona e l'opera di Cristo. Solus Christus La salvezza si può ottenere solo attraverso Cristo, l'unico mediatore tra Dio e gli uomini. Sola fide, sola grazia. La salvezza si può ottenere solo per fede nell'opera di Cristo. Noi non abbiamo alcun merito, siamo quindi giustificati per i meriti di Cristo. Soli Deo Gloria Solo Dio è degno di onore e gloria. A Lui solo va la nostra lode, la nostra adorazione, il nostro culto, il nostro ringraziamento, la nostra vita. Che questo possa essere vero anche per te che ci ascolti. Dio ti benedica e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! 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 Grazie a tutti.